Al via la campagna di tesseramento 2021 per sostenere Emergency, la nota associazione fondata da Gino Strada, che sino ora nel mondo ha curato e aiutato 11 milioni di persone. Emergency è l'associazione fondata da Gino Strada ormai 26 anni fa, quindi penso che da tutti sia conosciuta. Comunque è un'associazione che costruisce ospedali in zone di guerra, in zone di povertà, dove l'assistenza è gratuita, di alta qualità e per tutti. Il tesseramento è una delle maniere per garantire un sostentamento a tutti questi ospedali che noi abbiamo costruito, che tutte le mattine aprono e quindi hanno bisogno di denaro. Oltre al suo impegno all'estero, nei paesi in guerra, dal 2006 Emergency è presente anche in Italia, con ambulatori che offrono cure gratuite in alcune delle aree più difficili del paese. Quest'anno, a causa dell'emergenza Covid-19, l'associazione ha intensificato il suo impegno, lavorando nella terapia intensiva dell'ospedale della Fiera di Bergamo e in tanti altri progetti. Dalla consegna di beni di prima necessità alle persone più vulnerabili, a un servizio di ascolto e sostegno psicoterapeutico per il personale sanitario, ex pazienti Covid e le famiglie dei pazienti. L'ultima iniziativa promossa è il progetto Nessuno Escluso, neanche chi ora è in difficoltà, che prevede la distribuzione gratuita di pacchi alimentari e beni di prima necessità a Milano, Roma, Piacenza e Napoli, per dare una mano alle famiglie colpite dalla crisi di questi ultimi mesi.